Buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. E code a tratti tra Prato Ovest e Firenze Ovest. Sulla A12 per lavori code a tratti tra il Vivio per la A15 e Carrara in direzione Livorno. Sulla Fibili per lavori in direzione Firenze, 3 km di coda tra Cascina e Lavoria, 2 km di coda tra Lavoria e Pontedera Ovest. Rallentamenti tra Lastra, Assigna e Scandicci in direzione Firenze. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio! Grazie a tutti!